Sono cominciate le operazioni di sgombero delle biciclette nell'area limitrofa alla stazione ferroviaria di Pordenone al fine di effettuare una pulizia completa e rimuovere quelle in stato di abbandono. Già dalle 6 di questa mattina, agenti della polizia locale hanno presidiato l'area invitando gli utenti a spostare il proprio mezzo nell'area temporanea destinata alla sosta delle biciclette e ciclomotori. Alle 8 invece, dopo l'arrivo del personale tecnico del comune di Pordenone e di ulteriori agenti della polizia municipale, sono cominciate le operazioni di registrazione e fotografie delle biciclette. Poi sono state caricate sui furgoni e trasportate al magazzino comunale. L'assessore alla sicurezza, Flavio Moro. Abbiamo rimosso tutte le biciclette che erano presenti presso l'area creando uno spazio ad hoc per chi arrivava questa mattina e doveva appoggiare la bicicletta. C'erano circa una ventina di biciclette da rottamare che sono state praticamente smaltite dalla GEA e circa un 200-210 biciclette che saranno depositate presso il magazzino comunale. Le operazioni sono andate bene, si è proceduto anche alla pulizia dell'area proprio per renderla decorosa. Da domani l'area sarà di nuovo disponibile agli utenti per portare le biciclette. Le biciclette rimarranno a disposizione per 30 giorni presso il magazzino comunale in via Lerotto a Pordenone. Per informazioni telefonare allo 0434 368 084.